Rappina un furgone portavalori nella mattinata di venerdì 18 gennaio intorno alle 9. Il furgone era appena arrivato davanti a filiale Unicredit in piazza Stampaglia, quartiere Madonna di Campagna, Torino. Armi in pugno e malviventi non hanno esitato a sparare e uno dei proiettili è ferito la guardia giurata che ha cercato di respingerli, facendo così nascere un conflitto a fuoco. La guardia è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco, indagine in corso. Grazie 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 Grazie